Un progetto da 100 milioni di euro che nella sua fase di realizzazione darà lavoro a 400 persone. Si chiama South Point ed è stato elaborato dalla Podini Holding. Si tratta in sostanza di riqualificare la zona di Via Galilei di fronte al centro commerciale Tuenti e riesce quasi difficile pensare che sulla zona individuata dalla famiglia Podini possano nascere negozi, 100 appartamenti e spazi per il tempo libero. Si parla di un asilo del più grande centro giovanile dell'Alto Adige di un parco per lo skating e un centro bowling oltre a zone wellness con piscina. Tutto in linea con quanto indicato dal masterplan del comune di Bolzano che proprio nella parte settentrionale della zona produttiva del capoluogo prevede la costruzione di un nuovo quartiere e un'estesa striscia di verde. Il flusso viario oggi consistente in transito su Via Galilei verrà fatto transitare nella zona retrostante in Via Simens e Via Lancia con l'ipotesi anche di tornare ai due sensi di marcia su Ponte Palermo. Via Galilei sarà riservata a pedoni e ciclisti. Giovanni Podini racconta che l'idea gli è venuta osservando un trend ormai in voga a livello internazionale quando si parla di urbanistica, ossia costruire sul costruito e non più sulle zone verdi. Guardando la zona industriale di Bolzano attuale ci sono ampie zone che sono ormai dismesse, stanno andando fra virgolette a pezzi e con questo ragionamento abbiamo detto che qua potremmo fare un progetto di riqualificazione per la città di Bolzano interessante. Da quest'idea siamo partiti e oggi l'abbiamo presentato. Il progetto si sviluppa su un totale di circa 37.000 metri quadrati, 31.000 dei quali già di proprietà della Podini Holding, il resto è del comune. Noi a giorni presenteremo ufficialmente in comune il progetto, è già stato presentato stamattina in giunta comunale e ai tecnici comunali. La domanda vera e propria verrà presentata a giorni e poi seguirà l'iter secondo l'articolo 55 e qui in questa è la legge provinciale. Come detto oggi il progetto è stato illustrato alla giunta comunale. È una proposta interessante, vedremo poi di valutarla come giunta, come uffici tecnici del comune, ma certamente è l'ulteriore dimostrazione che l'articolo 55 quinquies della legge provinciale all'urbanistica, che è stato tanto discusso e per certi aspetti contestato, è un articolo che consente al privato di fare delle proposte che magari il pubblico giudica utili.